da che parte attenzione attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dietro di te, attento! Attento, padre! Padre! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Libertà? Sì, sei libera. Le mie sorelle hanno patito la stessa sorte? Sì, ma le salveremo. Siete molto valorosi. Buona fortuna. Il Valhalla attende. E' entrambi? Non mi ha nemmeno visto. Se vogliono essere salvati, perché lottare fino alla fine? Sono avversari formidabili. Ti fanno crescere. Di solito i genitori vogliono solo che i figli dormano sereni. Sì. 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 Sì, sì. Sì, sì.